Pronto, Barna, abbassano il Vira. Non ci sono? Sì, che ci sei. Dovevi portarmi a ballare. Perché non sei venuto all'appuntamento stasera? Ma se non ci sono, come faccio a risponderti? Ho detto che non ci sono. Nemmeno per me? Sono Cristina. Cristina! Per te ci sono alcune. Volevo ringraziarti per la t***a. Oh, niente, un pensierino. Sai, ieri ho parlato con tuo padre. Davvero? Sì, gli ho chiesto la tua mano. Lui non era completamente d'accordo, ma... Comunque penso che non ci saranno problemi. Ti va bene per domani mattina alle nove? Per sposarci? Non posso anticipare. Ormai ho fissato per i 27. Domani mattina alle nove per scegliere le bomboniere. Pure. Comunque, io prima vorrei portarti a colazione. Ho trovato una latteria dove fanno delle brioche fantastiche. Domani mattina non posso. Sono a colazione con Pertini. Beh, porta pure lui. Impossibile. Perché? Accidenti. Cosa c'è? Una zanzara. Aspetta un attimo. Dunque, domani mattina alle nove non puoi. E allora ti va bene per domani pomeriggio alle quattro al capolineo del 29? Non posso. Sono piena di impegni. Cerca di capirmi, Barnaba. Ma è possibile che non riesci a trovare un minuto? Per andare a pranzo ti riporto da Mario. Eh, no, non posso proprio. E poi domani ho una grande ricevuta all'ambasciata. Cosa? Eh sì, quando si invitano tante persone. Ricevimento. Ecco sì. Beh, allora vorrei dire che io vengo lì. Ma veramente ho pranzo e inviti. Ci saranno personalità, cardinali, ambasciatori, alti ufficiali. Beh, allora invitami. Ma te la senti tu di stare in mezzo a tante persone importanti? Eh, ho capito. Non sono all'altezza, eh? Sai che ti dico? Sei superba, snob e viziata. Ma quando ci saremo sposati, penserò io a cambiare quel tuo caratterino. Cretino. Presuntuosa. Imbecille. Imbecille a chi? A te. A loro, ho capito bene. Benissimo. Ah, vuoi l'invito? E io te lo mando. E subito. Buonasera. Attaque. Attaque. Croce di guerra. Prima comunione. Il mio invito. Grazie.